ringrazio marco faccio da me che mi ha regalato le cicerchie ceci interi varietà principe e le lenticchie quindi bella marco adesso le mettiamo a bagno cioè oggi le andremo a fare domani le metto a bagno cosa dice qua ricche di fibre sali minerali e vitamine sono considerate fino ai tempi antichi la carne dei poveri va bene per noi salute sono anche ricchi di fosforo ferrovitamine del gruppo b hanno in alto contenuto proteico le nostre lenticchie dopo essere state raccolte vengono essiccate al sole e successivamente ventilate senza grande marco se è un grande adesso queste le mettiamo a bagno domani ce le sbraniamo guarda che bello guarda bro questo è per due persone benissimo lo lasciamo qua e domani le cuciniamo ancora un po vai grande marco sei un cazzo di capo alieno vabbè si basta mettese la camicia porca droga si si king della romagna bro ormai è tua la romagna guarda come ha assorbito un po di acqua queste qua domani spaccano dai 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 ora guarda qua quello guarda un è vero dire qua è l'anone con me sta a me inc Dai Luna Lo vuoi questo qua? Starà un botto Dai Luna andiamo 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 Allora come corri Pino chi è? Dai andiamo prendilo Meglio il nonno dai Meglio il nonno Dai vieni qua dove vai? Corri una volpe sei? Cosa fai? Allora Adesso poi facciamo le lenticchie Del grande Marco Infatti ringrazio Marco Faccio da me Che mi ha regalato Un botto di robe Un botto di legumi bellissimi Super buoni Siamo sempre qua E chi se ne va Tutto gratis Allora ho notato Sta roba qua L'altro ieri Dice servizio di demuscazione ecologica Per salvaguardare la salute dei propri cittadini Il comune di Castrocaro Terme E terra del sole Ha deciso di controllare la diffusione delle mosche Utilizzando trappole ecologiche Cattura multipla L'esca contenuta in esse Un attrattivo ecologico naturale A tossico Ovvero non pericoloso per l'uomo E gli animali Tutto le trappole sarà effettuato Bla 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 Quindi questa è una trappola aliena Ecologica per le mosche Questi qua sono tutti Tutti i bro morti Le mosche bro morte Poi raga dovevo dire Dovevo fare un annuncio Per dove mi metto Mi metto qua Qua è più bello Per Alessandro Il ciuffo Itinerante nomad Che sta cercando un camper Adesso Mi metto qua Dov'è il sole? Che non c'è neanche Vediamo se ci riprende Siamo un po' alieno Ok Allora Mansardato o furgonato Nello specifico Turbodiesel 2005 Però anche 2005 aspirato Misure non superiori ai 540 Cifra non superiore ai 4500 euro Possibilità di pagamento In due rate Di ulteriori 1000 Purché il mezzo sia in buone condizioni Grazie Alessandro Quindi ragazzi Se qualcuno ha un camper da vendere Contattate Alessandro il ciuffo Itinerante nomad Su ovunque Facebook Instagram Youtube E niente Facciamo un'opera buona Per un bro Che è il mio fratello E niente Adesso possiamo andare a mangiare Che è Cosa hai visto il virus Dai Luna Dì Luna Dai Andiamo dai Luna Dai Luna Vieni qua Guarda se viene Dai Luna Cosa fai? Vieni qua Sei fuori Adesso Ecco lì Adesso ti prendo Pino Cosa fai? Andiamo nel camper Dai Prendilo Vai Andiamo di qua Ma sei fuori Sei come il tuo capo Cazzo Sei come il boss alieno Fuori di testa Pappa Dai Andiamo a fare la pappa Eh Vedi così Tanto la pappa la devi fare Dai Vieni Vieni Pappa 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 Dai Sali sul nonno Vai su Bravo Adesso facciamo da mangiare Dillo Fala il mio nome e cognome Roberto Sidi Della Sardegna Dal poeta Da Cagliari Dillo Anzi Da Selarges Dio Nel video Menzionami Roberto Sidi Di Selarges Così Ci sono anche Altri miei amici Che mi hanno visto Lì Nel tuo video Ti seguono Grande Grande Robby Eh giustamente Bisogna sempre dare il credito Questo qua Il sale di Sardegna Che ormai conoscete Che mi ha dato Il grande Roberto Sidi Grande Bru Di Selarges Non so se l'ho detto bene Comunque ringrazio Anche Marco Faccio da me Faremo le queste lenticchie Che abbiamo messo a bagno ieri L'acqua si è assorbita Patata americana Cipolla Sedano Rock Comunque faremo un soffritto Adesso Via Cipolla Eh secondo me Ste lenticchie qua Sono paura Perché poi sono Non sono robe da supermercato Da grande distribuzione Capito Patata americana Patata americana Questa qua Questa qua me l'ha dato a mio padre Ma ce n'è ancora un botto In realtà Guardi C'è ancora una sberla così Questa me l'ha dato a mio padre Quando sono andato A Natale Che sono salito su a Milano A trovare mia mamma Sono passato anche da lui E mi hanno riempito di storie I genitori So così Voi lo sapete Raga Io non ne voglio Figli Però Penso all'emozione Di avere un figlio Bella storia Bella per i miei boss alieni Bella per il boss alieno Rocco E la regina aliena Carmela Mia madre Vai Rocco Adesso un bel soffritto Bro Poi capito in quadratura Perché tanto qui da tagliare Non è rimasto niente E niente Vai Anche così Oppure questi qua Bam bam Guarda qua Soffritto alieno Tutto il sole Meno mare C'è tre giorni che non c'è sole Sale del mitico Roberto Sidi Piccola luna Quanti posti che hai visto E quanti ne vedrai ancora Questo qua si fa andare per un po' Esceto il sole Infatti siamo a terra del sole Bella Marco faccio da me San capo Adesso è fritto così Facciamo imbiondire tutto Comunque raga La patata americana E' una figlia Ma anche quella italiana Non scherza Poi mettiamo anche un po' di passata Facciamo tutto 250 grammi E tanto poi arriva l'ospite Tengo questa sera L'importante ragazzi Girare sempre Non fate bruciare mai il miede Guarda che roba Te hai già mangiato l'uno Vuoi biscotti? Vadoa Vadoa Appena metto la mano qua Vuoi biscotti? Biscottino? Pino Tieni Niam niam Va bene Dai a dopo Perché tanto qua un po' Deve stare Allora ci siamo Secondo me Un po' di salsa Un po' di acqua Così Con due mani Bro Comunque raga Non è che butto l'acqua dentro Cioè vado a riempirmi le bottiglie Alla fontana Eh No che c'è lo sgamo Bru Adesso un attimo Un po' la volta Avendole messe a bagno Una notte intera In realtà Non è che devono cuocere Chissà qua Però guarda Bru Questo è troppo C'è mandare un po' Guarda qua come vanno bene Mamma mia Secondo me S'è una roba Dell'altro mondo Già i legumi Io li amo Però questi qua Che sono fatti Dal bro Beh beh Facciane per tutti Ragazzi Venite alla terra del sole C'è per già Ma Non fai da mangiare 5 euro a piatto No Facciamo due per i bro Dai Due euro bro Business Da paura Mica Sarà buonissimo Ormai ci siamo Ancora 3-4 minuti Un po' di pepe Poi è sempre a piacimento Il condimento Ragazzi Pur come aliena Va Mi piace un sacco La finia Come a bru Posso scandare un po' Guarda che ci siamo bro Adesso passiamo all'assaggio Sicuramente sono buonissimo Sicuramente sono buonissimo È sicuro Proprio al cento per cento Infatti è top Buonissimo Come sempre Ma ha dato anche le cicerche Un bot di roba Ci sono alcuni bro Che mi hanno chiesto di salutarli A me non costa un cazzo Anzi Poi piacere Pietro Country Life Che mi scrive sempre Su Youtube Deve del sigaro Delle storie Saluto anche Stefano Lai Che è un grande Di Cagliari Che quando vado lì Facciamo le storie Già siamo messi d'accordo E noi ci vediamo Come sempre Al prossimo Video